E' tranquillissimo, basta che metti l'angolo e prendi l'angolo dall'altra parte Fai piano, basta che si, prima che, adesso posso già fare, però vedete, ho usato forza, si, si, devi girarmi in questo modo, vai piano, tira verso di te, un'imprima giù, oh, oh, vedi, va da solo, e adesso prova, prova, se c'è, prova andare con pesa verso mio vomito, ridriceci, completamente, e schiacciate, va, si, bene, ah, solo con pesa di vomito, schiacci mio vomito che l'unica noce libera, vedi, sono quasi morto, adesso deve, deve atacare un po' con sorpresa, vedi, sono con pesa, si, niente, mio vomito mi soffoca già, e poi metti giusto presa per, per chiudere chiavi, chiudere, loco, basta, va, che brito, vedete, metti cos'cino a giù, quello che volevo mostrarti, quando sei, eri qua, eh, eh, ciasc noi, lavoriamo con ошибcami, tu sei stato qui, eh, eh, in realtà, sai che, cazzo, cosa voglio fare, cosa posso fare, tu stai qui, eh, eh, basta cambiare, poi pian piano vai di là, vedi, si, e poi andare con quello di qui, si, e hop, 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 guarda, quello che potevi fare tu quando hai girato quando tu hai girato avversario era così lui era già così sotto di te quello che ti hai perso no si 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 tu hai girato avversario capisci? tutto è stato tutto è stato sopra ah si si e poi l'ho fatto così? ma non che l'hai fatto si bene che sei stato qui basta questo era il suo aglio intercino aspetta aspetta ma niente aspettare tu devi fare questa cosa puoi cambiare i gambe no ho capito ho capito aspetta metto il braccio qua si cambio i gambe metti il gluteo a destra a terra se io ti controllo con il gomito schiaccia con il culo il mio gomito fuori vai 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 con i gambe hop 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 adesso schiaccia bene vai un po' più basso ancora un po' più basso adesso fuocali ma anche qua per sfogare ti vuole un po' di forza niente niente di forza non hai bisogno di forza guarda guarda quello che serve uno vedi qui mostro uno e poi due devo avvicinare il gomito al corpo basta guarda 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 con tutto il mio peso. Hai capito? Vedi cosa faccio? Guarda. Io porto la mia spalla destra verso terra. Vedi? Spalla destra verso terra. Io tengo così e la spalla destra porto qui. Questo è una cosa ancora una volta. Io ti proietto. Sto anche così. Vedi? Sto così. Vado, vado, vado. Vedi? Poi da qui. Prova a lavorare con il mio gomito. Vedi? Vedi? Gomito. Vedi? Pian piano vado, 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 vado. Unisco braccia e poi pian piano basta andare giù. O neanche non ti soffoco. Hai capito? Vedi? Tu potevi vincere anche questo. Non ti serviva Vedi? Poi? No. Starla lese. O ne quindi per proprio the music. Miriam la sena.